Gli imprenditori italiani guadagnano poco o evadono tanto? Dipende a chi poni questo tipo di domanda. Se la fai a un imprenditore ti risponderà che guadagna poco. Se invece la fai a chiunque altro ti risponderà che gli imprenditori sono un popolo di evasori. Purtroppo un luogo comune. Ma perché ci sparano a zero in questo modo? Perché le persone si esprimono così? Ora ti spiego il problema. Vedi in Italia c'è un luogo comune molto diffuso sui soldi che mette i bastoni fra le ruote alla maggior parte degli imprenditori. Sto parlando della paura di dire a voce troppo alta voglio fare i soldi, voglio creare ricchezza. In Italia questa espressione equivale a dire voglio rubare. Purtroppo sempre concetti sbagliati. Voler fare i soldi è sempre visto come qualcosa di brutto. Di cui vergognarsi da non dire mai a voce troppo alta. Proprio come se fare i soldi fosse sinonimo di truffare, rubare o ingannare. Per questo molti imprenditori sentono di avere un bastone fra le loro ruote. Perché se dovessero iniziare a guadagnare tanto si sentirebbero in difetto. Come se stessero prendendo impropriamente qualcosa a qualcuno. Ma perché? Mi domando io ma perché? Perché fare i soldi con le aziende non può essere sinonimo di rimboccarsi le maniche. Lavorare con metodo e puntare alla crescita, al successo e al benessere in modo etico. Perché non può essere così? In fondo avere un'azienda ha come obiettivo primario proprio questo. Generare ricchezza. Generare ricchezza per l'imprenditore, per la sua famiglia, per i collaboratori e per il territorio. Punto. Questa dovrebbe essere la mission e lo scopo importante. Sai spesso ripenso al perché sono diventato imprenditore. E mi domando se sia stata la sfida, il mettersi in gioco, il vivere una vita diversa o semplicemente il denaro. Ma no, nessuno di questi è il vero motivo che mi ha portato dove sono oggi. Ho conosciuto nel corso della mia vita migliaia e migliaia di imprenditori e ne incontro 500 nuovi ogni settimana. Alla fine la risposta che diamo? Tutti e quasi sempre questa. Volevo avere qualcosa di mio, qualcosa di più, qualcosa di mio. Tutti abbiamo iniziato a fare gli imprenditori spinti da questa voglia di libertà. Non volevamo essere dipendenti da un capo. Volevamo creare qualcosa di nostro, di lasciare ai nostri figli. Non volevamo accontentarci di una vita agli ordini di qualcuno, a timbrare il cartellino. E sono tutte ottime motivazioni. Ma se lavori 12 ore al giorno, lavori e fattori solo per coprire i costi, se manchi tu l'azienda non va avanti, dopo tutta la fatica che fai non riesci a estrarre valore dalla tua azienda, allora sai perfettamente che quelle motivazioni per quanto nobili non sono abbastanza, non sono sufficienti. Il punto è questo, non è sufficiente avere l'animo da imprenditore per essere un imprenditore vero, assolutamente. Quello che serve è la mentalità dei soldi, ma in pochi ce l'hanno, pochi assolutamente ce l'hanno. In Italia tre imprenditori su cinque guadagnano meno dei loro dipendenti, sono statistiche alla portata di tutti. Questo mi fa imbestialire letteralmente. 100.000 euro all'anno, l'ordi, è il minimo sindacale per un imprenditore. Ma proprio il minimo, equivale al costo di un dirigente, che prende 3.000, 3.200, indipendentemente dall'attività del settore e dalla dimensione. Può sembrare una cifra molto alta rispetto alla tua stazione attuale, perché magari hai una start-up e ci arrivi a malapena col fatturato. Oppure perché hai un'azienda che fa 2 milioni da 20 anni, ma fra te e i tuoi soci riuscite a tirar fuori 30-50.000 euro all'anno. In entrambi i casi la tua carta vincente ha un nome chiaro e preciso. Controllo di gestione. Perché nel primo caso devi crescere e spingere e fatturare di più, e puoi farlo più facilmente se riesci a identificare e ottimizzare i prodotti e i servizi più vincenti. E questo lo farai grazie al controllo di gestione, assolutamente. Mentre nel secondo caso devi capire dove si va a disperdere maggiormente il tuo utile. Anche in termini di centri di costo e anche qui lo strumento principale per farlo è il controllo di gestione. Il controllo di gestione è uno strumento essenziale. Ogni tipo di attività, dal bar di paese che fa 130.000 euro all'anno di fatturato annuale, alle aziende da 120 milioni come la mia. È il faro che guida ogni imprenditore verso il potenziamento del margine, dell'utile e del guadagno personale. E assolutamente no. Non è uno strumento complesso. Non è uno strumento costoso. Non è uno strumento solo adatto alle multinazionali. Non bisogna essere laureati in economia e commercio per farlo. Ma è uno strumento fondamentale per ogni imprenditore, soprattutto per le piccole e medie imprese. Durante il mio intervento a numeri master, di solito, uso la metafora del sistema solare per spiegare perché il controllo di gestione dovrebbe essere obbligatorio per legge per ogni attività. Arrivati qui immagino tu abbia un po' di domande, ancora senza risposta. Ma come faccio io, imprenditore, a smetterla di lavorare solo per coprire i costi? A crescere ed espandermi senza andare a intaccare i miei utili? Come faccio a far parte dei due imprenditori su cinque che guadagnano più di 100 mila euro all'anno? E hanno un'azienda che produce ricchezza? Abbiamo detto prima che c'è la tua carta vincente. Sono la conoscenza dei numeri e il controllo di gestione. Ma tutto parte da una mentalità imprenditoriale, quindi dal mindset. E perché? E perché? Non vorrei essere troppo banale, ma quando costruisci una casa parti dal tetto o dalle fondamenta. E se volessi costruire un palazzo dovrai fare delle fondamenta più solide e più profonde. O sbaglio? E infatti proprio per questo che più il lavoro della tua mentalità imprenditoriale sarà solido e profondo e più in alto tu potrai puntare nel generare valore con la tua attività. Ma come si agisce in maniera pratica e concreta su un qualcosa di astratto come il mindset? I nostri pensieri, il nostro modo di pensare. Come si fa? A questo punto potrai fare come fanno tutti gli altri. La fuori e riempirmi la bocca di chiacchiere, chiacchiere e chiacchiere ancora. Potrai ripetere a pappagallo una carrellata infinita di frasi fatte dai classici libri di crescita personale e chiudere qui il video. Ma preferisco le cose semplici e pratiche. Mi conoscete molto bene alle chiacchiere. Per questo devi sapere che ci sono due fattori determinanti che influenzano la tua mentalità imprenditoriale. Il tuo cerchio degli affetti dove vivi e chi frequenti e tu devi concentrarti su questi due esclusivi punti per cominciare a cambiare e migliorare la tua mentalità imprenditoriale. Ora ti dico come. Partiamo dal primo. Il tuo cerchio degli affetti, ovvero la tua famiglia. La tua famiglia ti sostiene? Ti sprona a fare sempre meglio? O il conflitto è sempre dietro l'angolo? Prenditi il giusto tempo per rifletterci su. Perché sono domande estremamente importanti. Il consiglio che do sempre agli imprenditori è di separare le due cose. Famiglia da una parte e azienda dall'altra parte. Il rischio di mischiarle è che quando le cose vanno male porti a casa i problemi dell'azienda. Inevitabile. Quando le cose vanno bene invece rischi di sentirti frenato nel fare quel passo più lungo della gamba e che può portarti a realizzare qualcosa di veramente grande. Le intenzioni della tua famiglia sono sicuramente buone, ma vogliono proteggerti. Per questo magari ti dicono di fare attenzione, di fare con calma, di affassare le aspettative e di non fare quel passo più lungo della gamba. Ma questo tipo di atteggiamento non ti è d'aiuto. Quindi tu li proteggerai a tua volta, non dicendo loro tutto quanto. Se vuoi per esempio cogliere una possibilità, opportunità di business, ti piacerebbe buttarti subito oppure ti direbbero di stare attento, di valutare estremamente, di fare la lista dei pro e dei contro. Tu devi essere veloce perché il mercato è velocissimo. Vince chi è più veloce. Il secondo punto su cui riflettere per potenziare la tua mentalità imprenditoriale è dove vivi e chi frequenti. Io, vivendo in un piccolo comune di provincia, di Vicenza, ho comprato la mia azienda senza avere i soldi, grazie alla prima operazione di MBO in tutto il Veneto. Era l'inizio degli anni 90 e c'erano le lire, ma l'azienda, possiamo dire, che fatturava l'equivalente di 500.000 euro attuali. Poi ha iniziato a crescere sempre di più quando da 500.000 è arrivato a toccare quota 41 milioni. La mentalità tipica della provincia ha iniziato a starmi stretta. Sapevo che per passare a livello successivo dovevo vivere in un posto dove con facilità potevo incontrare imprenditori più grandi di me. Così mi sono spostato a Milano. Decisione strategica importantissima. Quello che voglio dirti è che ogni imprenditore ha il dovere di crearsi delle situazioni che gli permettono di entrare in contatto con gli imprenditori di alto livello, di almeno il più alto livello di lui. Ti faccio questo esempio che faccio sempre perché calza a pennella. Io viaggio sempre in executive se devo prendere il treno. Quei 300 euro di biglietto che pago in più mi danno la possibilità di incontrare negli altri pochi posti executive personaggi con cui possono nascere rapporti unici di altissimo calibro. Una volta per esempio ho incontrato un imprenditore giovane che fa 100 milioni di fatturato con un EBITDA del 60%. Sì, l'EBITDA del 60% non me l'ha presentato nessuno. Non mi sono dovuto trasferire da nessuna parte. Mi è bastato prendere un treno e creare quella situazione. E ora quell'imprenditore da 100 milioni con 60% di EBITDA è mio amico Lorenzo. È nella mia cerchia. È uno dei 16.000 contatti del mio telefonino. E visto che so che stai pensando, eh Mirko però i 300 euro sono tanti, quel biglietto costa veramente così tanto? O è il prezzo giusto da pagare per incontrare persone di un certo peso con cui poter fare affari di un certo peso? Quanto mi è tornato indietro di quel biglietto da 300 euro? Un valore infinito e inestimabile. Per questo continuerò a farlo. Riflettici. Riflettici molto su queste mie scelte. Questi sono i miei consigli pratici per te. Per lavorare concretamente sulla tua mentalità imprenditoriale. Il presupposto di tutto questo però è parlare la lingua dei numeri. Mi spiego molto meglio. Non mi è mai capitato di incontrare un imprenditore più grande di me che non conosca alla perfezione i numeri della sua azienda. E che non basi la sua intera esistenza imprenditoriale sui numeri. I numeri non solo sono la chiave di volta della tua attività ma sono anche il linguaggio di alto livello essenziale per confrontarti con gli altri imprenditori di alto livello. I numeri sono il linguaggio di gergo dei grandi, dei grandi imprenditori. I numeri ti spalancano le porte delle opportunità. Se questo contenuto ti è stato utile perché ti sei messo in tasca un po' di sano pratico valore aggiunto, allora condividelo con un tuo collega imprenditore. Ricorda, la condivisione crea network e il network facilita il business. Ci vediamo nei prossimi video all'interno del mio canale. Grazie. Grazie.